Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Allo Skidding Open siamo sempre nella fase preliminare con Girona all'italiana. Dei 16 giocatori, soltanto 8 accederanno al tabellone dell'eliminazione diretta, quindi ogni punto portato a casa può essere determinante e vale oro. Nel video di oggi la bella partita tra Karyakin e Nakamura giocata al quarto turno. Partiamo! Sergei Karyakin con i pezzi bianchi apre la partita con E4 e Nakamura risponde con E5. Alfiere in C4, quindi la partita di Alfiere. Cavallo in C6, ma adesso col salto del cavallo in C3 praticamente siamo nella partita viennese. Cavallo in F6, arriva D3 e Nakamura continua con una delle continuazioni principali che è Alfiere in B4 che attacca ed inchioda il cavallo. La linea principale per il bianco è quella di giocare cavallo in G in E2 in modo tale da sviluppare ma oltretutto proteggere anche il cavallo con un pezzo, quindi evitare che un possibile Alfiere sul cavallo vada a sciopare la struttura pedonale. Karyakin invece non si preoccupa di questa struttura di pedoni e svilupperà il cavallo nella posizione più aggressiva. Quindi Cavallo in F3, arriva D6 e adesso arroco corto per il bianco. Alfiere cattura in C3, il pedone B ricattura e qui arriva Alfiere in E6. Qui naturalmente non si può lasciare l'Alfiere Campochiaro in questa posizione oppure il nero lo cambierà triplicando i pedoni, quindi veramente sciopando in maniera sostanziale la struttura pedonale, quindi qui bisogna o catturare o portare indietro l'Alfiere in B3. Karyakin porta indietro l'Alfiere in B3, cambiare sarebbe stato comunque ottimo e qui arriva H6 per controllare la casa G5. Torre in E1, controllo, un ulteriore controllo della casa E4, quindi in futuro c'è sicuramente in mente o ci potrà essere la spinta in D4. E arroco corto anche per il nero, mossa 9, la partita si fa originale. H3 giocato da Karyakin per controllare G4 e adesso il cavallo si sposta in E7. In questa posizione il bianco gioca cavallo in H4, che naturalmente vuole fare posto alla donna per poi far saltare il cavallo sull'avamposto F5, azione tematica che però manca di un secondo cavallo, quindi questa in realtà non è la migliore manovra a disposizione del bianco. Ritorniamo indietro di una mossa, forse forse sarebbe stato meglio giocare D4, perché dopo D4 con l'idea di catturare praticamente in E5, il nero probabilmente giocherà il cavallo in G6, Alfiere per Alfiere, il pedone ricattura, D per E5 e anche se si ricattura di cavallo, c'è il cambio dei cavalli, quindi anche il nero adesso costretto a ricatturare avrà il suo danno alla struttura pedonale. Attenzione perché la torre sta difendendo due pezzi, quindi donne in E2 con almeno, secondo me, un piccolo vantaggio per il bianco, ma almeno diciamo con una posizione pari, perché guardate quante idee c'è, torre in B1, Alfiere in C3, la torre si sposterà con tempo sulla colonna D, praticamente il bianco non sta messo male per niente. Ritornando invece alla partita, dopo il salto del cavallo in H4, Nakamura gioca C5 e adesso, come detto, donna in F3 che aiuterà insieme al pedone il cavallo a saltare in F5. Il re si sposta in H7 e con G4 praticamente Kariakin fa capire che il suo piano è quello di attaccare direttamente il re nero. Per questo motivo Nakamura rimuove il cavallo da F6 in modo tale che dopo G5 il nero non è costretto per forza a catturare, quindi a cambiare in G5. G5 arriva lo stesso, ma come abbiamo detto il nero non è forzato alla cattura e infatti gioca C4. C4 che inizia il controgioco al centro e sul dato di donna, quindi buona idea di Nakamura. Stavolta il bianco è costretto a catturare, vince un pedone ma guardate che brutta struttura e naturalmente arriva torre in C8 ad attaccare questi pedoni triplicati. Questo è un momento importantissimo secondo me della partita, perché il pedone C4 che comunque è stato guadagnato è sotto attacco ma non è per niente importante, e quindi non è un grosso problema andare a perdere questo pedone perché il bianco ha in mano almeno un paio di piani naturali che può seguire. Per esempio c'è la colonna B semiaperta, quindi spostare la torre A che va in B1 e oltretutto guardare e minacciare di catturare in B7 è sicuramente una buona idea. Un'altra idea è quella di spostare invece la seconda torre in D1, quindi attaccare ed inchiodare il pedone arretrato in D6. Il terzo piano, praticamente forse quello più pericoloso per entrambi i giocatori, è quello di continuare direttamente con l'attacco sul re, quindi donna in G3 e poi minacciare appunto di continuare ad attaccare. Viceversa, Kariaki non gioca nessuna di queste tre idee e continua con una via di mezzo, il salto del cavallo in F5, ma adesso arriva donna D7 e il bianco spinge in C5, qui si minaccia di vincere un pedone anche importantissimo e quindi Nakamura cattura. D per C5, la torre si sposta in D1 con tempo attaccando la donna, ma la donna si sposta in C6. Cavallo per cavallo, il cavallo ricattura, siamo arrivati al primo quizzone. Ora guardate bene perché in realtà questo primo quizzone è molto semplice. Sta a voi praticamente trovare la migliore continuazione per il bianco, quindi mettete pure in pausa e a voi la parola. Ritorniamo alla nostra partita, è perché qui praticamente Kariaki giocherà G per H6, quindi con l'idea di non curarsi di questo alfiere campo chiaro, che dopo C4 verrà intrappolato, perché dopo C4 non si può neanche spostare in A4 perché c'è la donna che lo controlla, pensando praticamente che, oppure con l'idea che scoprire il re nero sia la soluzione vincente. Ritornando invece indietro di una mossa, la soluzione al nostro quizzone invece è quella di non perdere l'alfiere, ma cambiare l'alfiere in E6, che sembra logico, e adesso dopo che la donna ricattura in E6 c'è un piccolo vantaggio per il nero, ma qui praticamente la partita è ancora tutta da giocare. Ritorniamo invece a noi, perché dopo che Nakamura ha ricatturato il cavallo con il cavallo in E7, invece di cambiare gli alfieri, praticamente Kariaki va direttamente sul re. Quindi G per H6, ma adesso arriva C4 ad intrappolare l'alfiere, H per G7, la torre sotto attacco, qui praticamente c'è soltanto una mossa buona per il nero, che è quella giocata da Nakamura, quindi re cattura in G7. Torniamo indietro di una mossa, naturalmente non torre in G8, che prende, mi sono anche scordato, da quanto era brutta, mi sono anche scordato la freccia, che prende praticamente, è matto forzato in due, perché qui arriva donna in H5 con scacco, e qui il re è costretto a mangiare, ma donna in H6, scacco matto. Quindi ritorniamo a noi, perché Kariaki in continua con la sua azione, a smantellare praticamente i piedoni di fronte al re nero, quindi H cattura in G7, ma il re di Nakamura ricattura in G7. Alfiere in A3 sta attaccando il cavallo non protetto, che se si muoverà praticamente è un'infilata che vuole vincere la qualità, ma questo cavallo è troppo importante, perché sicuramente anche se il nero lo andasse a proteggere, il bianco glielo cambierebbe. Infatti il cavallo è talmente importante perché deve saltare in G6 a proteggere il re. E infatti Nakamura si disinteressa della qualità, salta col cavallo in G6, arriva alfiere, cattura la torre in F8 con scacco, e la torre nera ricattura. Cosa fare in questa posizione? In questa posizione c'è sempre questo alfiere che praticamente verrà perso, quindi probabilmente l'idea migliore è quella di almeno vincere un pedone, quindi alfiere cattura in C4, la donna ricatturerà, adesso torre in D3 con l'idea di raddoppiare le torri sulla colonna D, naturalmente però vedete il materiale sulla scacchiera, praticamente il nero sta chiaramente vincendo, ma questa è forse la difesa più attiva. Ritornando a noi, invece dopo la ricattura di torre in F8, Kariakin gioca H4, il pedone è in presa e si può pure catturare, quindi questa mossa sembra un po' disperata, anche perché aprire la colonna H, vedete con il re ancora in G1, sembra solamente favorire il nero, che sarà il primo a poter conquistare con la sua torre, e infatti Nakamura cattura col cavallo in H4 oltretutto con tempo. Però la donna si sposta in G3 con scacco, è anche forchetta, ma il cavallo si risposta in G6, e qui arriva F3. Finalmente il nero cattura l'alfiere, e guardate questo, il piano di ricatturare praticamente, con il pedone C non verrà mai realizzato, quindi neanche la struttura ritornerà in sesto, perché praticamente in questa posizione, ha ragione Kariakin, meglio ricatturare con il pedone A, almeno aprire la colonna A per la torre. Qui si minaccia a 7, ma praticamente la minaccia del nero è più forte, non è quella di vincere un pedone, ma è quella di attaccare il re, quindi torre in H8, e qui arriva C4. C4 a chiudere un po' la strada, questo alfiere Campochiaro. Ma per proteggere il pedone centrale, Kariakin ha dovuto giocare prima F3, ma questa mossa ha praticamente aperto la diagonale scura contro il re, e infatti qui arriva donna in C5 con scacco, in giallo vedete le mosse più brutte a disposizione del bianco, andiamo per esempio a vedere cosa succede dopo donna in F2, che sembra soltanto ad apparenza proteggere il re, perché qui arriva la semplice tattica, torre in H1 con scacco, ora naturalmente se il re cattura la torre, la donna è persa, ma la donna è persa in ogni caso, perché anche dopo re in G2, praticamente il nero continua con un altro scacco, torre in H2 con scacco, re per torre, la donna cattura in F2 con scacco, e praticamente la partita finisce qui. Ma ritorniamo alla nostra donna in C5 più scacco, anche re in G2 è una mossa brutta, perché dopo re in G2 il bianco prende un semplice scacco matto, arriva alfiere in H3 con scacco, quindi il re si deve per forza spostare sulla colonna H, re in H1, l'alfiere si sposta in F1 con scacco di scoperta, qui l'unico modo è interferire con la donna, ma torre cattura donna in H2 con scacco, il re ricattura, qui c'è donna in F2 con scacco, il re è costretto nell'angolo, donna in G2, scacco matto. Quindi ritornando alla nostra partita, dopo donna in C5 con scacco, Cariakin sposta il re in F1, che è la mossa migliore, ora in questa posizione siamo al secondo quizone, secondo quizone però molto più interessante, perché in questa posizione, che si vede subito dominante per il nero, ci sono tante forti continuazioni da giocare a disposizione di Nakamura, soltanto per fare un esempio, c'è questa semplice spinta B5, andiamo a vedere che succede, e naturalmente il bianco non può catturare, perché dopo C per B5, la donna cattura in C2, vedete c'è addirittura la minaccia di matto in 1, e quindi questa situazione il bianco può sicuramente già abbandonare, tanto forti sono le minacce a disposizione del nero, ma ritornando alla nostra re in F1, quindi al nostro quizone, praticamente questa spinta B5, insieme ad altre buone continuazioni per il bianco, non sono la continuazione più forte, perché c'è un'altra mossa più forte e più logica, e quindi mettete pure in pausa, se la volete trovare, e da voi la parola. Ritorniamo alla partita, diamo la risposta al quizone, trovata da Nakamura, perché la mossa più forte in questa posizione, è la semplice, re in F6, re in F6 che praticamente schioda il cavallo, in modo tale che questo fortissimo pezzo, che può subito saltare in F4, è un nuovo pezzo che si aggiunge all'attacco, e naturalmente re in F6, modo migliore per schiodare il cavallo, perché se il re ritornava indietro in F8, c'era lo scacco di torre da D8, quindi re in F6, è un nuovo fortissimo pezzo, si sta per raggiungere ad un attacco già forte, la donna si porta in G1, perché Karayakin tenta di cambiare le donne, ma adesso arriva al fiere in H3 con scacco, il re si sposta in E2, quindi non si perde la donna, perché la donna è protetta dalla torre, già mi era venuto in mente che adesso il cavallo nero però entra in gioco, quindi cavallo in F4 con scacco, il re si sposta in D2, torre in D8 con scacco, questa è la mossa finale, perché praticamente Karayakin abbandona, Karayakin abbandona perché la donna è sicuramente persa, adesso il re si dovrà spostare, e quindi o re in C3 o re in C1, dopo re in C1, cioè il salto di cavallo in E2 con scacco, che è anche Forchetta che vince la donna, ma dopo torre in D8 con scacco, anche se il re si sposta in C3, c'è cavallo in E2 con scacco, e la donna è sempre persa. Quindi bella vittoria di Nakamura, che rimane nelle prime posizioni, mentre Karayakin non riesce per adesso a rientrare nel taglio. Prima di salutarvi, una comunicazione di servizio, perché naturalmente avrete notato che a me piace molto rispondere a tutti i commenti, e anche se sono tanti cercherò di continuare a farlo, c'è però, diciamo, un problema tecnico, perché il pannello di YouTube che vedo io, che sono il gestore del canale, mi fa vedere benissimo tutti i nuovi commenti, quindi rispondere a tutti i nuovi commenti è molto semplice. Invece non mette per niente bene in evidenza le risposte a precedenti commenti, tant'è che visto che io so che voi rispondete, me li vado a sfogliare a mano, quindi le risposte ai commenti nei video vecchi o molto vecchi, ecco, quelle sicuramente mi possono sfuggire, perché è lui proprio non me le fa vedere, quindi o me le vado a ricercare a mano, ma adesso i video iniziano ad essere tanti, quindi non ve la prendete se non vi rispondo su una risposta, soprattutto nei video vecchi, perché proprio io non riesco a vederla. Detto questo, spero che la partita di oggi vi sia piaciuta, non dimenticate il like al video, e naturalmente non dimenticate di iscrivervi al canale, perché domani c'è una bella partita di Carse. A presto! Grazie! 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 Grazie!